il recupero dell'acqua delle tartarughe avviene con un primo passaggio in quel bidone blu poi tramite il tubo prosegue prosegue fino alla tinozza delle nifee di qui una griglia per evitare le foglie che intasino il tubo riparte e va più in giù fin quando all'aperto arriva al punto di destinazione e cioè dove deve irrigare la pianta simbolo del giardino che è la pianta dell'amicizia la polonia voluta da thierry